Siamo con Dimitrio Sunas nel post gara di Fermana Perugia, che tipo di partita è stata? Secondo me abbiamo iniziato molto bene, abbiamo fatto un gran primo tempo, la partita è stata sulle nostre mani, abbiamo creato tanta occasione, peccato che non siamo riusciti a fare il secondo e il terzo gol con i due palle che abbiamo avuto. Poi siamo rimasti in dieci, abbiamo avuto le difficoltà durante la partita, non siamo riusciti a tenere la palla e non siamo riusciti a creare tanta occasione nel secondo tempo. Secondo te l'espulsione di Vano ha condizionato la partita? Sicuramente è un svantaggio quando giochi con un giocatore in meno, però noi alla fine del primo tempo abbiamo detto ognuno di noi di dare qualcosa in più, perché quando giochi con uno in meno devi dare qualcosa in più. Quindi siamo entrati nel secondo tempo, purtroppo abbiamo preso nei primi dieci minuti il gol e poi è cambiato tutto. Ora c'è da resettare questa gara e pensare subito alla Virtus Verona? Sì, non c'è tempo di pensare che questa partita ormai in passato, dobbiamo pensare quella partita contro la Verona che sarà un'altra battaglia contro una squadra organizzata, secondo me. Sicuramente sì, ancora il cambiato non è finito, questo lo dobbiamo dire alle ultime giornate, quindi noi pensiamo a noi, pensiamo di fare più punti possibile e poi alla fine vediamo. Va bene, non voglio cercare alibi in questo momento, abbiamo iniziato come abbiamo iniziato, poi siamo andati alla grande, comunque abbiamo lasciato troppi punti dietro, è peccato perché potevamo essere più avanti. Non so se è mancato qualcosa, purtroppo come ho detto prima abbiamo lasciato, questo mese abbiamo lasciato tanti punti e quindi una squadra che vuole vincere il campionato certe partite non le deve sbagliare, comunque noi non molliamo, questo te lo sicuro, daremo sicuramente il 100% fino alla fine. No, non penso che siamo in callo, io posso parlare personalmente che fisicamente non ho avuto mai problemi, siamo bene, siamo una squadra che corre, tanto ci sono pure i dati che lo dico, non è che lo dico io, quindi penso che fisicamente siamo bene, la cosa più importante è di stare mentalmente bene perché la cosa mentale è quella che fa la differenza.